A Cremona, come spesso accade, prima si fanno le cose e poi se ne comunicano le motivazioni, proprio quello che è accaduto per lo spostamento dall'area taxi, passando dal lato della Galleria 25 Aprile al tratto finale di Via Manzoni, con relativa soppressione di alcuni parcheggi per i residenti. Questo ha suscitato molte polemiche tra i residenti che hanno manifestato il loro dissenso all'amministrazione e non ottenendo risposte chiare hanno deciso di rivolgersi alla minoranza. In centro già i parcheggi scarseggiano. I residenti si sono trovati con la cattiva sorpresa che delle strisce blu, che quindi erano a vantaggio di coloro che arrivano in centro storico e a vantaggio anche dei residenti che possono parcheggiare, sono diventate strisce gialle per i taxi. Su un lato di Piazza Roma, fra l'altro, dove ci sono molte abitazioni e quindi dove molte persone avrebbero bisogno di parcheggiare. I parcheggi, come abbiamo detto in centro, già sono pochi, così diventeranno meno ancora e non si capisce il motivo per cui i taxi dal lato di Piazza Roma, diciamo verso la galleria, sono stati portati su quel lato che fra l'altro è anche più scomodo da raggiungere, meno centrale rispetto al lato della galleria. Per cui una scelta scelerata dell'amministrazione, non condivisa con i residenti del centro, non condivisa con i fruitori del centro e quindi col comitato di quartiere, forse, non so, ci chiediamo a vantaggio dei taxisti, ma ci stiamo domandando quale sia il vantaggio per i taxisti. L'amministrazione comunale ha poi spiegato che la decisione relativa allo spostamento dell'area taxi è stata presa per riqualificare i giardini storici di Piazza Roma, rendendo pedonale l'area stessa. Ciò non toglie che residenti e cittadini si sono visti nuovamente diminuire gli spazi di sosta a pagamento già carenti in città. Era cagata, grande cagata. Non lo so, poi guardino un po' loro. Tu sei residente qui? Yes. E adesso dove vai a parcheggiare? Quando una volta parcheggiavi qua? Prendo la macchina all'albero, ho preso il gancio, l'attacco e la tiro su. Se mi tolgono il posto auto, però dobbiamo stare alle loro regole. Chi abita non ha il garage in centro per problemi logistici, ha bisogno anche di poter parcheggiare senza doversi svenare con il costo dei parcheggi che sono abbastanza alti a Cremona.